Allora, senatore Sini, parto da lei. Come si risolve questa situazione? Come la vede? Guardi, siamo al lavoro per trovare una soluzione che non metta l'Italia in una condizione di difficoltà con i partner con cui stiamo lavorando per la realizzazione di questa opera. Perché non dobbiamo dimenticarci che questa non è un'opera che riguarda soltanto l'Italia ma riguarda anche i nostri partner dall'altra parte, cioè i francesi e anche l'Unione Europea che cofinanzia l'opera al 40%. Quindi ci sono poi delle clausole molto chiare che debbono essere rispettate. Ora, la proposta che io ho fatto è quella della pubblicazione comunque dei bandi che altrimenti se non venisse fatta ci farebbe perdere 300 milioni di finanziamento europeo sull'immediato e ci metterebbe quindi in una grossa difficoltà. Allora, c'è una formula che è prevista dal diritto francese che è la cosiddetta clausola della dissolvenza. Allora, la mia proposta era pubblichiamo i bandi con questa clausola della dissolvenza che significa che i bandi possono essere revocati in qualunque momento, nel momento in cui ci fosse una definitiva decisione politica, ma nel frattempo se ci vogliamo sedere con i nostri partner francesi e con l'Unione Europea per ridiscutere i parametri dei finanziamenti lo possiamo fare, ma lo facciamo in una posizione di correttezza e di rispetto degli accordi. Questa è una proposta che ritengo di buon senso e ragionevole e mi auguro che i nostri partner di governo la prendano in seria considerazione. La presenza delle forze dell'ordine e dello Stato è importante perché deve, a livello anche di percezione, dimostrare che non ci sono zone che vengono lasciate abbandonate a se stesse dove l'illegalità può proliferare. Poi naturalmente però questo non basta, perché poi in queste zone così periferiche si concentrano una serie di condotte che sono difficilmente gestibili soltanto con un'azione repressiva o comunque di deterrente specifico sul territorio. Bisogna lavorare a monte, bisogna lavorare sulle cause. Su questo io voglio fare una riflessione che faccio abbastanza spesso. C'è un malessere diffuso in questa società, in questo tempo, in questa epoca. Si manifesta in modo palese perché naturalmente se vediamo lo spaccio di droga a cielo aperto vediamo i tossicodipendenti che si approvvigionano da questi delinquenti, dispacciatori e quindi questo è sotto gli occhi di tutti. Però poi c'è un disagio molto diffuso che va intercettato dalla politica e da chi ha il compito di indirizzare le linee del paese anche in termini educativi partendo dalla scuola, dalla famiglia, dalla vicinanza dello Stato e delle sue strutture in certe zone come possono essere quelle della periferia per dare sostegno. Naturalmente questo è un lavoro estremamente complesso. Questo è un paese che ha 12 milioni di italiani che fanno uso quotidiano di psicofarmaci. Non dimentichiamocelo. Quindi c'è un disagio diffusissimo. Allora, c'è una parte di legalità e quindi quando parliamo di droga va rispettata la legge e soprattutto va data la possibilità anche a chi vuole investire. Perché guardi, io le dico che siccome quella zona la conosco, so anche che ci sono dei privati che hanno cercato di investire proprio lì in quella zona mettendo i soldi propri cercando di dare la possibilità di recuperare il territorio, il tessuto perché poi se il tessuto viene abbandonato e ci sono solo delle catapecchie, delle zone dove non c'è niente è più facile che si riuniscano queste modalità, questi atteggiamenti, questi modi di essere. Se invece c'è qualcuno che investe e porta lì la parte sana del tessuto sociale allora è meno facile che lì ci sia questa concentrazione di delinquenze. Naturalmente quando si parla di ONG è chiaro che il nostro non è un indiscriminato attacco nei confronti di nessuno. Anzi, grande rispetto per quella risorsa importantissima di cui gode questo Paese che è fatta di milioni di italiani che sono impegnati nel volontariato. Aggiungo poi un'altra cosa che bisogna andare però alle cause più genetiche e più profonde del disagio perché se il tessuto del nostro Paese è esattamente come il tessuto organico se non circola il sangue in alcune zone, il sangue cos'è? È l'attività, sono i negozi, sono le attività di lavoro, quelle sane. È evidente che là dove non scorre tutto questo è più facile che ci sia una cancrena che si creino delle infezioni. Allora lì noi dobbiamo agevolare invece la presenza attiva di chi vuole investire, di chi vuole aprire degli esercizi commerciali, di chi vuole fare delle attività anche di tipo sociale, delle attività aggregative. Ripeto, proprio lì a Rogoredo ci sono dei privati che hanno attivato non solo l'offerta di tipo economico e di lavoro ma anche delle attività di aggregazione sociale con delle sale, è stato fatto per Natale tutta una cosa per i bambini con il patinaggio sul ghiaccio, tutte iniziative private, ripeto. Poi naturalmente non è solo con i fondi che si può risolvere il problema. Io gestisco al Ministero il piano città, mi sono accorto che abbiamo dato 300 milioni a molti comuni, 300 milioni di euro e poi dal resoconto che mi è stato dato praticamente la gran parte di queste risorse non sono state spese. Allora è evidente che non basta da solo il finanziamento economico ma servono poi dei progetti che diventano attività viva sul territorio. Ma guardi, intanto però voglio ripartire dal dato politico. Proprio ieri l'Istat ha pubblicato i dati nuovi rispetto alla produzione industriale che è in ripresa. Noi ci eravamo lasciati con la preoccupazione di una produzione industriale che rallentava, qualcuno voleva in qualche modo attribuire al governo delle responsabilità anche se era evidente che non ce ne fossero, ma anzi oggi, proprio a gennaio, subito dopo la nostra manovra di bilancio, abbiamo un dato che è un dato per la prima volta positivo. Quindi questo lo voglio dire perché naturalmente poi si può sempre fare di più e si può sempre fare meglio. È il nostro intento per la prossima legge di bilancio di concentrare tutte le risorse all'abbassamento delle imposte che serve per far ripartire davvero l'economia in senso reale. Questa scelta precedente a cui abbiamo dato la priorità, come ricordava lei, è una scelta nella direzione del sostegno delle fasce più deboli. Il reddito di cittadinanza è un provvedimento che ha due binari. Un binario che riguarda le politiche attive del lavoro, quindi il reinserimento all'interno del mercato del lavoro di coloro i quali o tortocollo se ne trovano al di fuori, appunto indipendentemente dalla loro volontà, e poi un altro segmento che invece sostiene quelle fasce di povertà che sono determinate non da scelte, ma da condizioni ostative. Può essere l'anziano oltre 65 anni, può essere la mamma da sola con dei figli minori, può essere magari una famiglia con dei portatori di handicap. Ci sono tante realtà difficili. Lei citava quelle dei bambini, che sono poi la fascia debole che soffre le conseguenze dei disagi sociali più forti. Ecco, noi su quello abbiamo messo in campo un provvedimento che è stato finanziato abbondantemente. Il nostro scopo è quello di cercare sicuramente di andare incontro a tutte queste realtà. Poi c'è, oltre alla povertà economica, c'è un altro tipo di povertà, che è la povertà di futuro. Cioè, il problema di una società non si individua soltanto dal punto di vista del mero conteggio dei numeri, ma anche di quello che è la sostanza che la nutre questa società. E allora, lo ripeto, qui si riparte dalla famiglia, dalla scuola, da una narrazione rispetto al futuro. Perché se un giovane oggi, e se va a vedere le statistiche e i dati glielo rappresentano, non crede nel futuro, non ha o si sente in qualche modo scippato da questa prospettiva di futuro, è evidente che è più facile che si crei lì una sacca di disagio, di povertà, di arrandevolezza. Allora, la società nel suo complesso, nel suo insieme, deve ritornare alla prospettiva, deve ritornare a tracciare la visione del domani. E quindi, questo naturalmente è compito di tutta la politica, non parlo solo del governo. Noi abbiamo il dovere di dire che c'è una prospettiva, c'è la voglia di progettare un futuro e che è giusto avere desideri, è giusto avere ambizioni, è giusto lavorare per potersi realizzare nella vita. Perché oggi, se no, significa soltanto al massimo sopravvivere, cioè accontentarsi per sopravvivere. Ecco, c'è una differenza tra sopravvivere e vivere. Noi dobbiamo lavorare tutti perché i giovani, le famiglie, i bambini, tutti abbiano la prospettiva di una vita pienamente vissuta e realizzata. Secondo lei, potrà cambiare il dialogo con l'attuale maggioranza, con questo, diciamo, tra virgolette nuovo PD, secondo lei? Ma guardi, intanto mi faccio un attimo rispondere nel merito. Il trimestre a cui fa riferimento Romano, naturalmente sulla linea cronologica del tempo, si riferisce a ottobre, novembre e dicembre dell'anno scorso. Questo governo ha iniziato la sua gestazione, la sua attività a giugno dell'anno scorso. Quindi è evidente che il trimestre a cui fa riferimento Romano è una eredità di una impostazione passata. La risposta del PD è colpa del PD, diciamo. No, no, ma no, io non ho detto, ma no, 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 io sto solo dicendo. In linea cronologica, ottobre, novembre e dicembre, il nostro governo è iniziato a giugno. È evidente che è una coda di scelte strategiche passate, che vengono fatte con le leggi di bilancio. Io dico solo che il primo dato, dopo la nostra legge di bilancio, il primo dato che abbiamo disponibile nuovo, che è quello di gennaio, parla di un aumento della produzione industriale, quindi una inversione di tendenza. Poi stiamo a vedere, ma nessuno augura all'Italia di andare indietro, naturalmente. Io prendo il dato positivo e lo metto sul tavolo. Detto questo, ho anche precisato nel mio intervento che si può sempre fare di più e si può sempre fare meglio e quello che faremo nella prossima legge di bilancio è puntare tutte le nostre risorse per l'abbassamento delle imposte. Un primo punto però è stato messo in modo reale, cioè ci sono un milione e mezzo di famiglie, che sono le partite IVA, che hanno, anzi, a partire da quest'anno, un'aliquota unica forfettaria al 15%. E vi assicuro che questo, le persone che ci ascoltano, se ci sono lì al di là dello schermo lo sanno, questo cambia la vita. Non sono io, ma sono i commercialisti italiani che dicono che un milione e mezzo di queste famiglie risparmieranno nel 2020 due miliardi di euro. Allora, è tanto, è poco? Allora, io posso dire che è un pezzettino. Sicuramente non sono pienamente soddisfatto, ma ho appena detto che abbiamo iniziato un percorso che deve proseguire nel solco dell'abbassamento delle imposte, perché senza la riduzione fiscale non c'è la rete. Posso però una banduta che io la vorrei fare?